Da oggi si riparte in Casa Rosso Azzurra il primo giorno di allenamenti in vista del match che il Catania giocherà lunedì 29 gennaio alle 20.45 sul campo del Massimino contro la Virtus Francavilla. Sarà il posticipo di giornata e tutti avranno gli occhi sul Catania a partire dalla capolista Lecce. I rossazzurri dal canto loro saranno chiamati a vincere senza più compiere scivoloni ma con il vantaggio di conoscere già il risultato della sfida disputata dai Salentini. Nel frattempo al Massimino ci saranno occhi per Saraniti che da settimane è accostato al Catania ma difficilmente lascerà a Francavilla per quella che sembra solo un'operazione di fantamercato. Intanto si lavorano alle cessioni da quella di Semenzato voluto fortemente dalla Sicula Leonci e seguito con attenzione dal Parma a quella di Giorgiovic che dovrebbe descindere ed essere più libero di accasarsi con chi vuole. Resta poi il nodo legato a Caetano Khalil che invece sembra destinato alla permanenza anche in questa sessione di mercato a meno che non si trovi un accordo che ad oggi pare lontanissimo. Ad una settimana dalle fine delle operazioni quindi è sempre più probabile che la dirigenza rossa-azzurra si prepari a vivere intensamente gli ultimi giorni confidando che si possa trovare anche qualche occasione dell'ultima ora legata agli scontenti in cerca di gloria che in una piazza come Catania possono avere soprattutto nell'ottica di una possibile promozione in Serie B.